Oggi affrontiamo un argomento spero interessante, la piattaforma IoT di Arduino che potete utilizzare gratuitamente se acquistate una scheda ufficiale. Io mi sono preso un Arduino Nano 33 IoT per fare questi esperimenti. Oggi vediamo come pilotare un LED da web utilizzando questo sistema. Iniziamo subito. Oggi vedremo come collegare un Arduino Nano IoT che vedete qua, quindi questa scheda abbastanza potente, 32 bit, monta un ARM con la piattaforma per internet degli oggetti di Arduino. Quindi andremo a realizzare un sistema dove avremo il nostro Arduino, quindi il microcontrollore, a cui collegheremo man mano vari tipi di sensori o attuatori, quindi LED, pulsanti e cose del genere. Questi andranno via internet a collegarsi alla piattaforma IoT di Arduino dove avremo una dashboard che permette di vedere cosa accade e eventualmente di controllare la scheda, quindi passando tramite internet. Internet. Questa è una cosa fondamentale per un progetto di internet degli oggetti. In particolare oggi vedremo come andare ad accendere un LED premendo un tasto sulla dashboard, quindi qui avremo la nostra dashboard online con un pulsante che potremo andare a premere per accendere il LED. Il LED lo colleghiamo al nostro Arduino Nano utilizzando il pin 2, una resistenza, metto la solita da 3,90 e il nostro LED a piacere collegato al ground. Fate attenzione sul pinout perché purtroppo le schede nuove, queste qua le Nano, non riportano indicato nulla, avete segnato solo il ground in bianco, quindi serve per forza ogni volta un'immagine con il pinout per non sbagliarsi. Quindi il 2 lo trovate qua subito dopo il ground. Purtroppo i nomi dei pin sono segnati sotto. Bene, realizzato l'hardware bisogna andare a preparare tutta la piattaforma. Faremo tutto utilizzando Arduino Create, lo trovate all'indirizzo create.arduino.cc, vi dà l'editor, web editor per Arduino e abbiamo qua l'IoT Cloud. Dovemo però prima registrare la nostra scheda. Fate attenzione anche a un'altra cosa che io ho installato il plugin necessario per far comunicare la scheda hardware che ho appoggiato di fianco al mio computer con il web editor, quindi fa da ponte, fa da bridge. Non vi faccio vedere come installare il plugin, trovate le istruzioni sul sito di Arduino, anche se purtroppo devo fare una nota negativa anche qua, era molto più semplice una volta, adesso pare un pochino più laborioso. Comunque, se andate nella sezione download di Arduino, trovate ancora prima del download del file di installazione la parte web editor e qui potete quindi entrare nell'editor e configurare eventualmente la scheda. La prima cosa da fare però quando iniziamo a lavorare sul nostro IoT Cloud, vi ricordo anche qua è necessario anche registrarci, quindi dovete essere registrati prima di poterlo utilizzare, immagino che lo siate. Avete un sito che è una web application, qui avete Thing, Dashboard e Device, questi tre elementi. Quello che viene chiamato Things è in realtà il progetto, quindi sarà il vostro progetto che comprende la dashboard e il codice da mettere sulla scheda che andrete a collegare. Nella parte centrale abbiamo le dashboard che è il pannello visivo, quindi quello che raccoglie i dati con i controlli per comandare la scheda da remota e invece nella parte Device abbiamo la scheda che andrete a collegare. Se utilizzate una scheda ufficiale non dovete pagare nulla perché altrimenti c'è da pagare un abbonamento per poter utilizzare la piattaforma. Quindi con la Nano originale, la Nano 33 IOT, avete l'accesso anche alla piattaforma. Per aggiungere un nuovo device, premete Add Device, qui potete scegliere se usare una scheda ufficiale o altrimenti una fornita da terzi, quindi con la connettività Wi-Fi. Se non avete l'agent attivo, vi viene segnalato e potete scaricarlo e attivarlo. Quindi l'agent è fondamentale per poi poter lavorare online. Una volta che avete installato l'agent dobbiamo attendere che venga riconosciuto il dispositivo. Vedete che è riconosciuta la scheda, quindi la configuro, vuole semplicemente il nome, quindi gli diamo un nome, io la chiamo ZM Board. Attendiamo la configurazione finale, viene caricato uno sketch particolare. Alla fine va tutto bene e la scheda dovrebbe apparire nell'elenco delle board. Possiamo procedere a questo punto creando un progetto, usando la scheda ufficiale possiamo creare un progetto, uno solo. Quindi facciamo Add New Thing, gli diamo un nome a piacere, test IoT. Scegliamo il device da associare, quindi la scheda che abbiamo installato prima, facciamo Create. Quindi siamo pronti con il nostro progetto. Qui procediamo andando ad aggiungere una proprietà, la proprietà la chiamiamo LED, che vogliamo andare a pilotare un LED, che abbiamo collegato alla scheda. Questo viene associato a una variabile con lo stesso nome, scegliamo il tipo, la mettiamo in tipo booleano, quindi on off, in modo da collegarla a un tasto. Lasciamo impostato RedWrite e Update quando il valore cambia. Facciamo Aggiungi proprietà ed eccola qua che compare. Ora possiamo passare nella parte Dashboard, creiamo una nuova dashboard, diamogli un nome, IoT Test, aggiungiamo dei componenti. Vogliamo controllare il LED, quindi useremo uno switch, eccolo qua che appare. Possiamo collegargli la proprietà, quindi clicchiamo su proprietà, vediamo che abbiamo LED visibile, facciamo Link Property e viene collegato. Cliccando su Use Dashboard poi la possiamo attivare. Ora torniamo indietro, andiamo su Things di nuovo e ora prepariamoci a modificare il codice da caricare sull'Arduino. Quindi clicco sul mio progetto Things, qui ho Edit Sketch, clicchiamo Edit Sketch, mi si apre l'editor che posso utilizzare per andare a scrivere e configurare il codice. Il progetto che viene creato a quattro file, andiamo subito su Secret, qui dobbiamo andare a mettere l'SSD, cioè il nome della rete cui vogliamo collegarci. Io ho chiamato la rete in questo modo, questo è comunque il nome della vostra rete Wi-Fi. Andate poi a inserire la password. A questo punto vediamo Thing Property, qui vedete che è stata creata una variabile boolean LED e un metodo OnLedChange. Andiamo sulla parte principale dello sketch, qui abbiamo ben poco da fare, se no ricordarci, visto che vogliamo usare il pin2 come uscita nel setup, scendiamo, ci mettiamo qui sotto, facciamo Pin Mode 2 Output. Poi scendendo ancora un po' troviamo OnLedChange, qui questo metodo che è stato creato su misura viene chiamato ogni volta che tocco il tasto sulla dashboard. Questo perché ho impostato la proprietà come ReadWrite, qui cosa facciamo? Impostiamo il LED e facciamo DigitalWrite 2 e gli passo direttamente il valore della variabile boolean LED. Quindi andrà ad accendere o spegnere il LED direttamente. A questo punto possiamo fare la verifica che viene fatta online, quindi la compilazione del codice è online e viene poi caricata sulla scheda. Accertatevi che la scheda sia collegata e che il plugin sia attivo. Terminato il caricamento andate a prendere la dashboard, cliccateci sopra, la vedrete qua in esecuzione. Andando a cliccare sullo switch vedrete il LED accendersi e spegnersi. Vedete che la scheda online lo riconoscete da questo simbolo. Faccio On, Off, On, Off. Il LED sulla scheda si accenderà e si spegnerà. Ogni volta che clicco vedete il LED si accende e si spegne. Come avete visto è un po' macchinoso magari la configurazione dell'ambiente. Poi una volta che avete collegato la scheda, installato le varie cose, a regime l'attività di sviluppo, di modifica, di scrittura di questi sketch è tutto sommato molto semplice. Bene, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani. Ciao!